Procedere, io sono pronto. Però esce proprio una foto bella con il fuoco dietro, eh? Ah, che gusto! No, veramente, guarda! Che gusto! La sigaretta al tizione. E tu, eh, giovane, tu cosa l'hai accesa con la sigaretta? L'hai accesata al tizione. Te la sei fatta accendere? Oh, una sigaretta solo è accesa. Che è che devo accendere qua? Guarda come tira bene il fuoco così, perché questo prende la... La differenza tra un camminetto vecchio e un camminetto fatto con intelligenza. Prende l'aria da sotto, la consumi... Però te l'ho detto, il fatto è... Del fumo. Ieri sera, Barbara... Siamo tornati a Soprano. Poi siamo andati a questa volta, c'è una villa... E' un altro po'. Eh? La reggia di Casetta, vicino alla parete, c'è il dipinto dell'ultima sigla. Vabbè, fai da... Oh, no. Se si prende un po' Ma, ma, ma... Il lavandino, il lavandino in marmo scavato, nel marmo. La pietra... Proprio la pietra gli hanno portato. Eh, sì, 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 sì. Ma, ma... Così? Eh, però non dico la scaricarezza. Eh, no, non dico la scaricarezza. No, non dico la scaricarezza. No, non dico la scaricarezza. Se ne esce la... Ma come tira il dito? Quella è andata a pesare... Ah, io lo fa. Questa mattina. Questa mattina. Ti esce l'una fa... Eh, non mi ha dato l'ordine il tuo marito. Ma ci mette l'acqua. Eh, non mi ha dato l'acqua. Fattorita, guarda. Sì, che abbiamo bevuto. Però... La casa, perché... La invergogna pure andrà a perdere. Ah, sì, sì.